Nel 8 lunedì di ormai 18, presso la strada 2 al Corrione, c'è un convegno delle organizzazioni dopo la stagione, si chiamano un anno dopo il controvertice, le domenze non mantenute. Ovviamente incitavano, tra l'altro, incitavano anche qualcuno da una cittadina, qualcuno mentre in questa stagione abbiano portato direttamente all'esterno, io potremmo parlare un po'. Per cui chi ha interessato a partecipare a questa, il loro giorno scorso avevano fatto il controvertice, quest'anno fanno un anno dopo il controvertice. Abbiamo veramente la sigla.